Davide, è una stagione con poche presenze purtroppo per te, ma comunque è importante il tuo ruolo all'interno di questo gruppo, sei un riferimento. Spero di riuscire a dare una mano a tutti, anche se non ho avuto la possibilità di fare tante presenze. Ho cercato comunque di dare il mio aiuto e se ci fosse stata l'occasione sarei stato pronto per giocare. Ho un ottimo rapporto con i miei compagni, ho cercato di sostenerli sempre nei momenti importanti della stagione e penso che se abbiamo raggiunto certi obiettivi il merito è anche di chi ha giocato meno. Che voto dai a questa stagione? La squadra ha perso un 6 per la regular season del campionato dove abbiamo avuto alti e bassi facendo vittorie, risultati importanti e poi nelle partite magari un po' più semplici sulla carta siamo venuti a mancare. E per i play-off 7 perché abbiamo fatto una gran partita con la Cremonese, abbiamo portato a fine rigori, potevamo vincere nei supplementari, poi all'ottere dei rigori è andata male. Si ripartirà anche da te per la prossima stagione che sarà ancora più impegnativa viste anche le squadre che scenderanno dalla Serie B? Penso di sì, penso di rimanere, dobbiamo parlare con il direttore, ma un altro anno di contratto e niente, il campionato sarà impegnativo, i play-off saranno ridotti rispetto a quest'anno. Cercheremo di fare una salvezza tranquilla e poi puntare a qualcosa di più.